Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre vi invito seguimi qui su Youtube o su Instagram, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a parlare di cosa ne penso di Villan Saga, allora questo manga storico che parla dell'epoca dei vichinghi con il re di Danimarca che vuole fare questa battaglia per conquistare l'Inghilterra principalmente, anche se i protagonisti è questo Thorfinn, figlio di Thor, e la storia parte proprio con lui da bambino in cui suo padre, che è un famoso guerriero molto potente, forte e conosciuto a tutti, va in Islanda a vivere con la moglie e i figli fuori dalle battaglie, però la guerra viene a trovarlo a casa sua, nel senso che gli viene ordinato dal re di tornare in battaglia, però viene tradito per certi motivi, muore, lui cerca vendetta e si arruela sotto quello che l'ha ammazzato per cercare di vendicarsi a sua volta. Parli questa storia di vendetta, a un certo punto, torna al diciottesimo capitolo, al diciottesimo volume, non gli resta più niente perché la vendetta viene compiuta, ma non da lui, si trova vuoto, senza obiettivi, non sa più come andare avanti nella vita, viene preso schiavo, questo Thorfinn, poi trova altri obiettivi, però molto bello, parla i tradimenti, questa epoca che a me piace perché non studi mai a scuola la storia dell'epoca dei vichinghi, quindi è molto particolare, certo se non ti piacciono i romanzi storici, i manga storici, magari non ti piacerà, hanno fatto comunque l'anime in una stagione di 24 episodi, probabilmente non so quando uscirà anche la seconda stagione. A me piace come storia, tradimenti, vendetta, vendette incompiute, farti capire che la vendetta non è il fine ultimo, devi avere qualcos'altro nella vita e tu con gli occhi suoi del protagonista di Thorfinn te ne accorgi, fai sentire proprio le sue esperienze e come si sente in quel momento, lo capisci come si sente. Poi di sotto c'è una battaglia per il potere, per diventare il re di Danimarca, ci sono tanti intrighi politici, è molto molto interessante, capisci un po' come ragionavano a quell'epoca, un po' per certe intrighi, ricorda un po' il trono di spade, per certe intrighi, però è bello, ovviamente è storico, non è fantasy, quindi è tutta battaglia, ci sono tante battaglie su battaglie, i disegni diciamo, sono carini anche quelli, mi piacciono anche quelli, i disegni si lascia leggere, ci sono molti dialoghi, però guardate che disegno, guardate qua, sono molto belli, io ve lo consiglio sinceramente, se proprio non sapete perché magari non vi piacciono questi generi, provate a guardare l'anime, cercate l'anime in qualche episodio e poi prendetevelo. Io come sempre vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, condividete e attivate la campanellina, grazie.